ben ritrovati da vladimir belli il commento di belù andiamo a spiegare un po questa nuova mia iniziativa insieme agli amici di magnetic dare a fare una sorta di riassunto di riepilogo delle gare che commento su aerosport ovviamente vi invito all'abbonamento sui nostri vari device aerosport player discovery plus quest'oggi ho commentato la gand webergen 248 chilometri 800 metri una classica che sicuramente viene dopo le cinque classiche monumento per cui abbiamo detto la milano sanremo già corsa con la vittoria di moric poi domenica prossima ci sarà il giro delle fiandre parigi rubè liegi basso liegi e infine il nostro il mio giro di lombardia queste cinque classiche monumento subito dopo ci sono delle gare la gand webergen la freccia vallone san sebastian che vengono un gradino sotto quest'oggi si è fatta la storia perché si è fatta la storia perché dobbiamo dire che per la prima volta nella storia del ciclismo è arrivata la vittoria di un corridore africano eritreo benjamin girmai corridore nato il 2 aprile del 2000 per cui compirà 22 anni tra qualche giorno una vittoria storica la vittoria che veramente apre le porte anche al continente africano sicuramente nel giro di qualche anno ci vorrà ancora un po di tempo ma arriveranno anche gli africani a competere con i migliori corridori del mondo globalizzazione del ciclismo finalmente arrivata la vittoria anche di un corridore di un altro continente del quinto continente sappiamo quelle che sono eh le qualità fisiche mancava magari un atleta di riferimento è arrivato tornerà in patria non doveva correre la ganda bevelgen una bella prestazione per lui venerdì ad arelbeck una bella prestazione alla milano sanremo e quest'oggi veramente l'apoteosi il trionfo o la pelle d'occa come ho detto quest'oggi in diretta si è fatta la storia quest'oggi sono veramente contento per il successo di questo giovane ragazzo allora andiamo a vedere un po andiamo a spiegare un po' cos'è successo dicevo duecento quarantotto chilometri ottocento metri nove muri nove muri con anche del pavè hanno affrontato i corridori il famoso mitico kemmel hanno hanno affrontato il baneberg il monteberg alcuni più volte come appunto il kemmel eh fatto diciamo la seconda volta 34 chilometri dalla conclusione eh per cui veramente una gara spettacolare aperta tanti scenari si poteva arrivare in volata ovviamente non a volata massiva ma comunque un gruppetto come successo nelle donne con il bel successo della nostra elisa balsamo si poteva arrivare anche in gruppetto e così quest'oggi è stato quattro corridori quattro corridori che insomma sono corridori di spessore eh Laporte secondo aveva secondo me nella testa eh così la convinzione di portare a casa questa vittoria di un bovisma c'era Stoive non l'ultimo arrivato visto che comunque una Milano Sanremo l'ha vinta eh come l'ha vinta per cui un successo sicuramente di spessore non ha rubato niente ha sbagliato i tempi un po' la porta adesso andremo a vedere un po' nelle slide che cosa eventualmente è sbagliato però torno a ripetere Ghirmai è una sorpresa ma fino a un certo punto corridore capace di eh comunque arrivare secondo ad un campionato nel mondo e anche quello era stato comunque un passo storico dietro fortunatamente per noi al nostro Baroncini aveva dominato la volata per la medaglia d'argento adesso andiamo a vedere un po' le slide per andare a spiegare cosa è successo naturalmente se avete delle domande da pormi non sarà una diretta lunghissima cerchiamo comunque di dare le informazioni essenziali andiamo con le slide e qua abbiamo la locandina la locandina della Gantt-Wievergen giunta all'ottantaquattresima edizione pensate che questa gara si è svolta la prima volta nel 1934 una gara che nel nell'Albodoro vede dei corridori sicuramente che hanno fatto un po' la storia del del ciclismo tre volte è andato a segno Valloi tre volte Max tre volte Cipollini tre volte Bonen tre volte Sagan qua abbiamo l'altimetria con vedete la parte diciamo finale anche se in realtà l'ultimo scollinamento del Camel a 34 è avvenuto 34 km della conclusione per cui lo spazio poi per i corridori che sono rimasti attardati di rientrare anche se non tutti sono riusciti quelli che ci sono riusciti a causa o per merito per colpa di Vanarte e i suoi compagni squadra hanno faticato hanno patito però comunque sia sono riusciti poi in parte a coronare il rientro qua abbiamo Ghirmai dicevamo 22 anni qua lo vediamo con la medaglia d'argento ai mondiali dello scorso anno questo è un momento importante della corsa mancano 34 km alla conclusione l'attacco prima di Laporte in questo momento in seconda posizione in prima posizione Vanarte che ha allungato ha preso il Camel un po' dietro ha dato una fiammata una progressione impressionante è andato a fare selezione non una grandissima selezione ma come dicevo prima è andato a mettere in difficoltà un po' le ruote veloci su tutti i team Merlier che ha dovuto poi inseguire in prima persona ha dovuto comunque faticare ha pagato poi nel finale il momento a 24 km dalla conclusione dove Christophe Laporte parte parte sulla sinistra e qua vediamo anche eh dal punto di vista tecnico tattico come sia stato attento come sia già maturo Ghirmai aveva capito che poteva essere un'opzione aveva capito che doveva marcare Laporte non ha avuto paura l'ha seguito andiamo avanti qua siamo ormai a due chilometri e trecento metri della conclusione corridori che comunque sono sempre rimasti fuggitivi ad una ventina di secondi corsa sempre aperta però non c'è stato il ricongiungimento corridori dell'Alpici dicevamo per Merlier corridori come Kung in questo momento in seconda posizione per Arnaud Demar corridore che comunque è stato capace di vincere la Sanremo e quest'oggi è stato nel vivo della corsa e poi vediamo anche gli uomini del team Baren Merida che ci sono fatti sorprendere su tutti Moric dietro ancora un corridore dell'Alpici hanno provato pancia a terra a riaprire la corsa non ci sono riusciti veniamo al gran finale qua siamo ancora a due chilometri duecento metri della conclusione con i quattro corridori che ci sono alternati cambi regolari non hanno fatto troppa tattica giustamente in ballo c'era una gara importante una classica importante come la Gand hanno lavorato tutti di comune accordo fino praticamente sul rettilineo finale siamo i duecentoquaranta metri duecentocinquanta metri scarsi alla conclusione sulla destra vediamo l'inquadratura dall'alto quando Ghirmai e anche qua ci fa capire il temperamento di questo ragazzo rompe gli indugi parte se vogliamo parte anche lungo arrivo che tira leggermente lì in su parte secco sulla destra sorprende la porta che si è trovato in prima posizione era lui favorito nessuno poi ha voluto passare davanti la port aveva sul su di sé sulle sue spalle il peso della corsa la port che non pensava che Ghirmai anticipasse la volata dai duecentocinquanta metri qua siamo ormai ai centottanta metri duecento metri scarsi della conclusione guardate il volto la testa di la porta che reagisce a Ghirmai si metterà poi sulla sua ruota Ghirmai comunque non demorde qua la porta preso essendo stato sorpreso dall'attacco dall'anticipo di Ghirmai un metro un metro e mezzo prova poi nel finale a venire fuori qua vediamo ancora molto bene siamo i cinquanta metri lo svantaggio di la porta che è ancora di un metro qua andiamo ormai ai venticinque metri viene fuori la porta esce molto forte ma ormai è tardi questa l'inquadratura frontale Ghirmai ancora in spinta chiaramente la porta qua capisce che non c'è niente da fare e arriva la vittoria nell'incredulità di Ghirmai le mani vedete sul casco ha aperto una breccia nel ciclismo come dicevo in apertura qua i complimenti da parte dei compagni di squadra una vittoria questa sentita una vittoria meritata una vittoria che fortemente voleva e chiaramente poi l'immagine di Ghirmai sul palco delle premiazioni sorridente corridore che a me piace moltissimo lo avevo già sponsorizzato non pensavo sinceramente che potesse fin da subito insomma eh fare questo salto di qualità non pensavo che potesse fin da subito essere a 22 anni un protagonista assoluto delle grandi classiche e invece ha dato dimostrazione di avere delle grandi gambe vediamo se abbiamo qualche domanda parte degli amici a casa un aggiornamento per quanto riguarda eh colbrelli un aggiornamento nel senso che eh allora abbiamo letto tante cose su Sonny Colbrelli abbiamo visto eh vari articoli sui giornali la cosa importante l'ho detto anche in diretta sia mercoledì a La Pan sia venerdì a Darlbeck e sia quest'oggi alla Gandwevege il corridore sta bene il corridore ha passato un momento se vogliamo che poteva essere tragico adesso dobbiamo avere pazienza dobbiamo comunque aspettare l'esito che daranno poi i medici è in buone mani rientrato in Italia preferito anche per motivi di comunicazione di lingua eh avere un consulto anche da parte di medici italiani a Padova in questo caso per cui per cui aspettiamo non mi sento di fare nessun pronostico ho letto vari articoli sui quotidiani aspettiamo la cosa importante essendo eh colbrelli un uomo di 31 anni con due figli insomma che eh abbia portato a casa la pelle questo non è poco tutto il resto si vedrà adesso stiamo tranquilli eh aspettiamo di capire un po' l'evolversi della problematica allora eh vediamo se abbiamo qualche domanda no tanti complimenti allora salutiamo Mario Francesco Casagrande Nando Francesco Casagrande vi ricorderete vincitore di diverse corse tante corse tra i professionisti buttato via anche un giro d'Italia secondo me secondo la mia modessa opinione è andato in crisi nella cron scalata del Sestriere saluto naturalmente Cesarino Azzacane un amico Lele poi abbiamo Dario vabbè qualcuno qualcuno per essere diciamo alla prima puntata si è fatto vivo è qua ad ascoltarci come dicevo non deve essere una diretta troppo lunga siamo andati oltre i famosi dieci minuti che avevo preannunciato e adesso insomma al prossimo appuntamento vediamo di aggiornarvi un po' di fare un risoconto un riepilogo un riassunto per questa sera è tutto un saluto a voi tutti a presto e ricordatevi di abbonarvi ad Eurosport Eurosport Player naturalmente anche a GCN Discovery Plus ciao a tutti belli e brutti ciao a tutti